Si è svolta stamattina, presso la Sala Pulifunzionale della provincia di Teramo, la cerimonia finale del Marlisco Award per la premiazione dei video e delle opere d'arte presentate a concorso da tutta Europa. Il progetto Marlisco, finalizzato a sensibilizzare e responsabilizzare le principali parti sociali sul delicato tema dei rifiuti marini, è stato finanziato dalla Commissione Europea ed ha visto la presenza della giornalista e conduttrice televisiva Tessa Gelisio. Come ambasciatrice del mare. È un progetto europeo della provincia di Teramo che è capofila ed è un progetto sui rifiuti solidi marini ed è un tema davvero di drammatica attualità che stiamo affrontando. Stamattina non è la presentazione proprio del progetto, però è una delle attività parallele. Abbiamo fatto un concorso di video per i ragazzi delle scuole medie, inferiori e superiori e più un art contest cosiddetto con una serie di opere artistiche fatte da artisti di tutto il pianeta, di tutto il mondo, particolarmente dell'Europa naturalmente, che oggi esponiamo qui all'androne della biblioteca Melchiorre delfico. Ed è un momento importantissimo perché dai ragazzi abbiamo raccolto nuove idee e sono stati premiati dei lavori meravigliosi, bellissimi, che fanno capire a tutti e poi andranno in giro come comunicazione in tutto il mondo, che fanno capire che il comportamento dei singoli che può determinare o meno anche un grave inquinamento del mare. Questo è stato l'insegnamento particolare di oggi, davvero molto bello. La provincia di Teramo è naturalmente in prima fila sui problemi legati all'ambiente e all'energia. Io ringrazio l'assessore Francesco Marconi e tutta la struttura con la dottoressa Calilli e tutta la provincia di Teramo per il grande lavoro svolto con questo progetto e con una serie di altri importantissimi progetti, tutti legati all'ambiente, partendo dal patto dei sindaci e poi via via il pari dell'Hercip e così via. Insomma una serie di attività davvero importanti che ci riconoscono non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Iniziamo con i ragazzi del... Adelice Artistico di Chirico di Torra Annunziata. Ragazzi avete partecipato a questo concorso importantissimo, le emozioni che avete provato... Di sicuro gioia e anche un po' paura per quello che potrà succedere. Sicuramente c'è stata un po' di agitazione, però diciamo che con questo video abbiamo voluto dare un messaggio molto chiaro al nostro, principalmente anche al nostro paese dove abitiamo, anche perché dove abitiamo noi il nostro mare è molto inquinato. Ma non solo il nostro, il mare è quasi di tutto il mondo si può dire, quindi il messaggio che abbiamo voluto dare è stato molto forte. Un onore essere premiati dal redirettore della fotografia della RAI, condotto programmi come Grande Fratello, Camera Caffè, è importantissimo, comunque è un onore. Poi essere definiti nel nostro video un pugno nello stomaco è... Pazzesco.